Sembra la terra dei fuochi, ma è Piazza Garibaldi. A denunciarlo è una persona che scrive alla redazione del mattino, in cui denuncia la situazione di degrado che si vive in Piazza Garibaldi, quello che dovrebbe essere un biglietto da visita per tanti turisti che giungono in città attraverso la stazione. Una zingara, secondo quanto denunciato da questo telespettatore, si è messo a bruciare vestiti e rifiuti, tra cui plastica, nei rintorni proprio di Piazza Garibaldi, il tutto tra l'indifferenza generale. Una situazione che purtroppo si verifica ormai da troppo tempo e sono in tanti infatti a denunciare la poca vigilanza attiva su quel territorio.